L'operazione di oggi è il risultato di una strategia per il ripristino della legalità nel territorio di Marano, dopo lo scioglimento di dicembre scorso del Comune, lo smantellamento del clan egemone degli Orlando e lo spossessamento patrimoniale fino al potenziamento della presenza dell'arma che avverrà a breve con l'istituzione del Comando Compagnia Carabinieri.